Buongiorno a tutti, benvenuti cari telespettatori di Fano TV, siamo sempre in diretta tutte le mattine per vedere i giornali, cominciamo dal Santo del Giorno, vediamo subito oggi San Vincenzo Pallotti, un santo del 1795, infatti è nato in quell'anno lì e fu definito l'apostolo di Roma il padre dei poveri, ha fondato anche l'unione dell'apostolato cattolico, allora il sole è sorto alle 7.34 e tramonterà 5 minuti dopo le 17. Andiamo a vedere il nostro sito internet, eccolo qua, questa è la pagina principale, andiamo sotto a vedere, entriamo vedete il nuovo bottone, clicchiamo e vediamo la temperatura di questa mattina, è un grado alle 7.30, un grado e 3, insomma fa freddo, c'è una bella umidità, 90% la fotografia però ci mostra, vedete, uno spaccato dalla città di Fano, praticamente con soltanto delle nuvole a largo, a largo del mare, insomma quindi niente di che, infatti vedete la nuvolosità che viene presentata anche qui sulla grafica della protezione civile, avremo un cielo oggi prevalentemente nuvoloso con generale attenuazione della copertura dalla serata. Le precipitazioni non si escludono soltanto a livello locale, con brevi rovesci nel settore interno meridionale della regione Marche, quindi con possibilità anche di nevicate oltre 600 metri, le temperature sono senza variazione di rilievo, per domani 23, sabato 23 avremo un cielo poco nuvoloso con temperature in diminuzione, poi domenica, domenica per Fano è una giornata importante perché è la prima giornata di carnevale, quindi c'è la prima sfilata, che tempo avremo? Avremo un cielo sereno poco nuvoloso con temperature in lieve aumento e un venticello di brezza leggera da nord, quindi insomma dovrebbe almeno dal punto di vista meteorologico promettere bene questa apertura di carnevale. Poi il tempo sarà buono, si guasterà a metà della prossima settimana. Allora che cosa scrivono i giornali questa mattina? Naturalmente come ormai succede da un po' di giorni il tema della sanità con lo scontro politico tra il centrodestra, tra l'opposizione a Fano, naturalmente sto parlando di Fano, tra l'opposizione e il sindaco Seri come fa per esempio oggi l'ex sindaco di Fano, Stefano Guzzi, che attacca e accerchia l'attuale sindaco Massimo Seri. Stefano Guzzi manda dire all'attuale sindaco agisci o dimettiti, l'opposizione spara a zero, il PD prende tempo e invoca Ceriscioli, Ceriscioli è il presidente della regione, ci pensi lui. A Guzzi si deve tornare a votare, solo in questo modo i democratici, il partito democratico non potrà più nuocere alla città di Fano. Sotto invece la testimonianza di Ivan Cottini, modello malato di sclerosi multipla, la testimonianza ai ragazzi, agli studenti dell'istituto Olivetti di Fano, Ivan tra le tante cose che ha detto nella sua testimonianza dice la vera malattia è l'auto isolamento. Le altre pagine andiamo a vederle subito. La storia, una bolletta da 6 mila euro per una recapitata a una 92enne, c'è stata una perdita d'acqua che ha fatto schizzare il contatore e adesso però ci si domanda se come mai, se è possibile che Aset non si sia accorta di questo guasto. La denuncia a mia suocera è stato fatturato un consumo di 80 volte maggiore. Da Fossombrone, ospedale in prognosi riservata, il consigliere Pier Giorgio Fabri dei 5 Stelle visita il nosocomio. Fotografia di questa situazione a Fossombrone, ecco cosa non va punto per punto. Poi la cronaca sopra un teschio nel bosco, un teschio trovato nel bosco di Pian di Meleto. C'è la cronaca sulla pagina di Urbino e Provincia, poi si parla della riorganizzazione dei trasporti, il governo varra la riforma dei porti e Ancona allarga la sua authority. Niente fusione con Ravenna ma competenza da Pesaro a Pescara. Le sedi sono 15, calano le poltrone. Apriamo adesso il Corriere Adriatico. Sul Corriere Adriatico ecco Cotignola, il modello di Ceriscioli. Avviati i contatti con GMV che gestisce 34 strutture sanitarie per accreditare una clinica privata. Ne abbiamo sentito parlare in questi giorni di questo modello, il modello di Maria Cecilia Hospital di Cotignola in provincia di Ravenna. Un ospedale privato di alta specialità convenzionato con il sistema sanitario nazionale. Il riassetto ospedaliero prospettato presenta tre vantaggi rispetto al disegno di Mezzolani e poi sempre sul Corriere alte specialità gratuite anche per i residenti. Sinistra unita il sindaco di Pesaro andrebbe sanzionato ma a Matteo Ricci va riconosciuto il merito di aver rivelato un passaggio cruciale della riforma. Sotto Aguzzi sollecita il patto dei comuni, progetto Fano e Udc, un atto di forza, mentre Forza Italia chiede un documento solamente sul Santa Croce. Mentre i 5 Stelle replicano la minaccia di Querela, Seri ora è in difficoltà a causa dei suoi alleati. Una pagina dunque come vedete è dedicata esclusivamente al tema della sanità a Fano e quindi il nodo dell'ospedale unico. Anche qui la storia della bolletta per oltre 5 mila euro, poi sulle scogliere invece al via il progetto, un investimento di quasi 7 milioni di euro, naturalmente le scogliere che andranno realizzate davanti a Sassonia. Gli uomini nudi invece aprono la festa del carnevale. Domani alle 16, quindi sabato, alle 4 del pomeriggio la corsa recuperata dal 700. Questo è importante sottolinearlo perché è una cosa del passato, non è un'idea di oggi. È un evento che c'era nel passato, si faceva nel 700, ci sarà una giuria femminile che avvaluterà l'aspetto estetico. Però stiano tranquille un po' tutti quanti perché insomma stare nudi in pubblico è comunque un reato, quindi non si tratta di nudità, nessuno sarà nudo, quindi è soltanto il nome e niente di più. È una cosa curiosa, speriamo anche divertente, insomma, niente di più. Anche se le femministe, le donne di femminismi, come possiamo leggere dal titolo del giornale sul Corriere Adriatico, la banalità della ragazza prendigetto, le donne di femminismi criticano pure il palio. Quindi le critiche sono per il manifesto di quella ballerina girata che fa da prendigetto e poi appunto il palio degli uomini ignudi. Poi sotto non sono 10 milioni ma sono 80 mila euro, siamo a Pergola, polemica sul progetto delle aree interne, Baldelli attacca Cuccaroni, non conosce quello di cui parla e dice ciò che ordina il PD. Sulla Casa della Salute il paradosso di Mondolfo, incontro delle 5 stelle con la città, l'ex Bartolini è pronto a diventarlo ma la struttura non parte. Da Senigallia invece, guardate questo fermo immagine, si tratta del... adesso non si sa, ci sono le indagini in corso, cioè è stata perquisita l'abitazione di un ex consigliere, è stato sequestrato un giubbotto, segnalato alla procura, stiamo parlando del petardo, della bomba carta che quest'uomo avrebbe appunto, che è un uomo sicuramente ha buttato dentro il consiglio comunale di Senigallia, non sappiamo se è quest'uomo. Questo è un fotogramma comunque, un fotogramma della videosorveglianza dove si vede appunto quest'uomo che martedì sera avrebbe lanciato un grosso petardo all'ingresso dell'aula consigliare. Sopra invece qui vedete un vetro rotto, la vetrata rotta dall'esplosione della bomba carta che ha interrotto naturalmente la seduta dedicata alla variante urbanistica. La partita degli ospedali è tutta da giocare, siamo sulla pagina delle Marche del Corriere, il nodo della struttura di Marche Nord, l'ultima parola passa a Ceriscioli, decideranno i sindaci della provincia. Una proposta arriva da Fano, il nosocomio centrale a Chiaruccia e uno privato a Muraglia. La vicenda della riforma sanitaria nell'entrotella ha un percorso tortuoso tra proteste e dietrofronte. Chiudiamo il Corriere Adriatico con la pagina di Pesaro, colpo grosso rubati 51 mila litri di gasolio, la stessa banda di ladri ha messo a segno altri piccoli furti nei ristoranti delle zone del mare e del porto, poi sotto invece questo è il piano spiaggia, rivisto e corretto. Ristorazione per tutti, punto ricreativo a Baia Flaminia e chi vuole potrà aspitare anche i cani. Nulla da fare per l'estate 2016, le nuove norme saranno infatti applicabili solo tra quattro anni, Campagavallo. E tra la nuova stagione di iniziative, condividere l'esperienza artistica. La Presidente Micheletti illustra gli appuntamenti dedicati agli adulti. Silenzio in sala e il linguaggio del cinema invece tornano le proiezioni in lingua originale. Andiamo a vedere adesso il Corriere Adriatico, l'apertura naturalmente è sulla scelta che dovrà fare la Regione per indicare e trovare appunto il luogo dove costruire il nuovo ospedale. Dopo Ceriscioli, il mediatore, arriva Agostoli, il pacificatore e prova a sistemare gli animi e a stemperare gli animi. Il segretario del PD interviene nella quereltra Pesarefano, Fosso Signore, secondo lui, è la proposta migliore. Ma il paglio degli ignudi, vedete, fa arrabbiare le femministe. Nudi alla meta non è il titolo dell'indimenticabile pellicola di Peter Sellers, ma è quello che succederà domani alle 16, quando oltre 100 uomini si presenteranno in piazza con la mascherina e naturalmente un costumino, come se fosse una corsa podistica in pieno agosto con 40 gradi. È la stessa cosa, soltanto che domani farà freddo. Mentre domani ci saranno appunto le nuvole, ma senza pioggia, questa almeno stando alle previsioni del meteorologo del messaggero, che è Massimiliano Fazzini, che come sempre fa le sue previsioni, il suo resoconto a fondo pagina, sulla pagina iniziale, sulla pagina principale del messaggero. Sull'indagine ambientale attorno all'ex AMGA, invece, via libera al piano. Necessari ulteriori controlli per la verifica di sostanze inquinanti, siamo a Pesaro, attorno al sito bonificato. Chiudiamo con la pagina di Fano del messaggero, la vediamo subito. Anche qui, ecco, vedete il manifesto di cui vi parlavo prima, il manifesto che ha fatto arrabbiare le femministe di Fano, i nudi alla meta, ma il sexy palio del carnevale fa sbottare le donne. Domani decine di podisti correranno indossando solo una succinta copertura, una giuria rigorosamente al femminile sceglierà il concorrente più avvenente, ma il gruppo Femminismi contesta l'idea e l'immagine scelta come simbolo delle sfilate. Poi, sempre dal corriere sotto le scogliere, l'assessore Fanesi rassicura i residenti e gli operatori balneari, quindi i bagnini, confronto serrato all'assemblea di presentazione del piano di intervento. Poi, anche qui la storia della bolletta, da 6 mila euro ad una 92enne e poi per l'agraria, per l'agraria al Battisti, strada di nuovo in salite. Con questo chiudiamo qui la nostra segna stampa, vi ringrazio per averci seguito, vi ricordo che stasera c'è l'appuntamento con il telegiornale alle otto e mezzo, vi aspettiamo come sempre, ma se siete in giro e volete essere sempre aggiornati sulle notizie della vostra città, del vostro territorio in tempo reale, con uno smartphone potete sempre collegarvi al nostro sito oppure alla nostra applicazione che potete scaricare da Google Play oppure da Apple Store. Grazie per averci seguito, a voi tutti, l'auguro di una buona giornata. Arrivederci.